Siamo qui alla ISEE, io mi chiamo Frida Hansen, la società è la Pyramid Computer in Germania. Noi facciamo vedere e-commerce nel negozio, in-store e-commerce, noi facciamo vedere delle soluzioni che aiutano ai negozi di vendere meglio, di portare un po' dell'e-commerce che uno conosce già da casa, di portare gli stessi avvantaggi nei negozi e combinare questi avvantaggi con dei avvantaggi del multitouch. Queste soluzioni sono fatte in modo che un cliente può scegliere meglio un prodotto, magari con dei filtri o altri metodi di arrivare al prodotto desiderato, e così avere una scelta più sicura o forse anche altri avvantaggi, per esempio di trovare nel campo di moda la taglia giusta, il colore giusto e di abbreviare le compere. In più uno può fare, come uno già conosce a casa, però con altri avvantaggi, può fare tutto il processo della compra, con la carta di credito, con il Paypal, con altri metodi di pagamento, quello che uno vuole. L'avvantaggio per il cliente è di trovare più veloce il prodotto e di avere, specialmente nel mondo di moda o nel mondo di prodotti di luxury, di trovare più veloce avvantaggi del prodotto o anche di scegliere di avere una scelta più oggettiva. Abbiamo dei partner internazionali, dalla Francia, dalla Olanda, ma anche dall'Italia. Abbiamo dei partner che fanno vedere soluzioni di software sul nostro prodotto del chiosco e così noi cerchiamo di trovare dei clienti come catene nel retail, tipo catene di fashion, catene di luxury, catene di lifestyle e in questo modo noi offriamo un servizio molto professionale con questi partner e anche un servizio di vendita internazionale con la casa Winkornikstof che già in Italia, anche a Milano, ha una sede di più di una centinaia di persone.